Con una settimana di anticipo rispetto alle altre regioni italiane dove scatteranno il 6 luglio, da oggi a Salerno in tutta la campagna è ufficialmente partita la stagione dei saldi. In un'estate iniziata da poco la scelta di anticipare gli sconti in campagna, motivata anche dall'avvio delle universiadi e dalla presenza di molti turisti, sembra essere anche per le associazioni dei commercianti l'occasione per far risalire le vendite bloccate a meno 30% dal maltempo di maggio. A giocare a favore degli sconti è anche l'arrivo per oltre 7 milioni di italiani della 14esima, una lettura condivisa dalla Confesercenti che stima che con la 14esima arriveranno 7 miliardi di euro nelle tasche e quindi ci sono buone prospettive per i saldi estivi legati anche all'improvviso aumento delle temperature. Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Commercio, per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà 230 euro, circa 100 euro a persona per un valore di 3,5 miliardi di euro. Leggermente inferiore invece la stima dell'osservatorio Feder Consumatori, secondo il quale l'andamento delle vendite sarà timido e contenuto. Come mostrano le immagini, chi non lo aveva già fatto avvisando i clienti fidelizzati con messaggini, oggi ha alzato le saracinesche con i ribassi. E al di là di quella che sarà la spesa effettiva, arrivano come sempre anche i consigli delle associazioni che rappresentano i consumatori. Tra tutti il Codacons che ricorda che ne saldi c'è l'obbligo per i commercianti di far pagare con la carta di credito, di esporre il prezzo e lo sconto, mentre rimesso alla discrezionalità del venditore la possibilità di provare i capi e di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato, a meno che non si scopra che sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta sì l'obbligo per il negoziante della riparazione e della sostituzione del capo e nel caso ciò risulti impossibile la riduzione o la restituzione del prezzo pagato.